prepariamo la gouache ciao a tutti e benvenuti da ombretta su arte per te oggi un video importantissimo prepariamo insieme la gouache questi colori così meravigliosamente vellutati coprenti, versatili li abbiamo utilizzati e abbiamo utilizzato dei colori veramente ottimi abbiamo utilizzato la gouache della My Mary ora produciamola da sola vediamo come viene e soprattutto prepariamoci per adoperarla in tantissimi video futuri e allora senza indugio clicca su iscriviti se non sei ancora iscritto pigia la campanella per non perdere i futuri video, spostiamoci di là e andiamo a vedere la gouache come si fa ed ecco gli ingredienti per preparare la nostra gouache 85 grammi di una soluzione formata da miele ed acqua 42 grammi e mezzo di acqua calda e 42 grammi e mezzo di miele poi 85 grammi di glicerina un cucchiaino di fiere di bue tre cucchiaini di destrina in polvere la destrina la potete trovare nelle pasticcerie o nelle farmacie è un carboidrato derivante dagli amidi che serve come addensante nella nostra ricetta 6 cucchiai di gomma arabica pronta andate a vedere come si prepara la gomma arabica nel video che vi lascio in info box perché c'è il video e poi ci occorrerà come pigmento sempre il bianco di medon o il bianco di spagna e i pigmenti che decidiamo di avere come coloritura che vengono usati in formulazione 1 ad 1 cioè ogni colore sarà composto da una parte di bianco di medon e una parte di colore prestabilito iniziamo subito così ci chiediamo subito le idee come prima cosa verso nell'acqua il miele vi ricordo che è una soluzione 1 a 1 quindi la stessa quantità di acqua e di miele l'acqua è calda quindi adesso il miele si riscioglierà disciolto il miele aggiungo la glicerina aggiungiamo ora il cucchiaino di fiele di bue e adesso i 3 cucchiaini di destrina e mescoliamo benissimo il tutto finché sia ben ben disciolto adesso aggiungiamo i 6 cucchiai di gomma arabica se avete seguito la mia ricetta il conservante è già messo dentro se no aggiungete una puntina di nipagina proprio a questo punto questa è la base per la vostra gouache adesso facciamola decantare un attimo quindi prepariamo i colori veri e propri io conserverò i miei colori in queste scatolette forta minuterie le trovate facilmente in quasi tutti gli impori tutto a mille oppure dai ferramenta mi occorreranno delle spatoline e cominciamo subito prendiamo pari quantità quindi un cucchiaino di bianco di medon e faccio il blu come primo colore un cucchiaino di blu oltremare il bianco di medon serve proprio per dare corposità al colore e quella particolare texture vellutata che soltanto un buon carbonato di calcio può dare al composto il bianco di medon detto altrimenti bianco di spagna infatti serve anche serve soprattutto a questo potete usare qualsiasi altro carbonato di calcio ad esempio il bianco di parigi però la texture così sottile e vellutata la regala soltanto il bianco di medon adesso dispongo il mio colore e verso qualche goccia del composto e non faccio altro che pressare il composto con la mia spatola per agevolarmi uso una spatola un po' più grande fate in modo di schiacciare tutte le particelle di colore per fare venire proprio un colore fluido e vellutato e ripetete questa operazione per ogni tinta che volete creare inglobate tutte le parti asciutte e schiacciatele rendendole una pasta molto fine e vellutata non troppo asciutta quindi se notate che sta essiccandosi troppo perché la parte pulvirulenta è tanta aggiungete un po' di qualche goccia di miscela base la miscela base potete conservarla anche in una boccetta ed utilizzarla al momento in cui volete fare della gouache una volta pronta raccogliete tutta la gouache mettetela sulla spatola e versatela nel vano dove dovrete conservarla tutte le componenti di questo colore sono solubili in acqua quindi per farla rinvenire se dovesse mai essiccarsi vi basterà bagnarla con dell'acqua meglio demineralizzata mi raccomando questa è la parte più importante di tutto il lavoro dovete ridurre al minimo la granulometria del vostro colore quindi schiacciate e lavorate la polvere e l'emulsione fino a renderla fluida e senza gol approfitto del supporto del piattino sporco di rosso e creo un arancione successivamente farò il giallo primario adesso faremo il bianco adesso faremo il bianco per far sì che sia bello coprente oltre al medon useremo il bianco di titanio come pigmento colorante quindi il medon per dare la struttura e il bianco di titanio per dare il colore quindi anche qui sto andando di due cucchiaini di bianco di titanio e due cucchiaini di bianco di medon o qualunque altro carbonato di calcio adesso farò il bianco e nello stesso modo farò anche il nero e alla fine poi vi farò vedere la palette che ho creato vi aspetto sul piano da lavoro per vedere il risultato finale della mia palette credo che ormai il procedimento l'abbiate acquisito ci vediamo dopo per me c'è ancora un lungo lavoro e alla fine del mio lavoro quello che avrò ottenuto sarà questo una palette di gouache pronta all'uso non vi preoccupate se i colori chiari sbordano leggermente nel nero perché rimescolando il nero ingloberà totalmente le tinte più chiare e non si vedrà più ma in generale non dovrebbe succedere perché questa cassettina è molto piccola quindi bianco, rosso, arancio, giallo, ocra, verde, blu oltremare e nero pronti per essere utilizzati per uno dei prossimi video la base che mi è rimasta la soluzione base che mi è rimasta l'ho messa in questa bottiglietta e la userò all'occorrenza per creare altri colori semi gioveranno ovviamente i colori possono anche essere miscelati tra di loro quindi questo blu può essere miscelato col verde per fare un turchese l'ocra col giallo e via discorrendo potete scurire i colori con la tinta nera o con la tinta bianca schiarirli è ragion per cui ho fatto le cassettine più grosse con questi due colori base allora sbizzarritevi e createvi la vostra scatola a seconda del vostro modo di dipingere mi raccomando abbiate sempre del bianco di modon o del bianco di spagna a portata di mano potete utilizzare anche il bianco di parigi e sempre con voi tanti pigmenti bene noi ci vediamo subito dopo che ancora qualcosina da dire ciao e adesso proviamo la nostra gouache sono passati un po' di giorni da quando l'ho preparata l'ho già utilizzata un pochino prima di parlarvene mi pareva giusto e adesso vi faccio vedere la sua resa morbida e cremosa proviamola subito il verde il giallo non è fantastica l'arancio io ho usato un pigmento rosso orrendo si chiama rosso segnali non lo comperate mai ci sono tanti rossi non comperate il rosso segnali perché è veramente problematico il rosso appunto rosso segnali il colore è venuto pure bene però è colpa del pigmento non sono riuscita a far disciogliere tutti i granelli non è colpa della gouache la gouache è la stessa del verde è semplicemente colpa del pigmento non adatto alle diluizioni in acqua è più adatto alle diluizioni proteiche tipo con le tempere all'uovo e via discorrendo l'ocra vedete tutte le terre si sono disciolte benissimo tranne il rosso è un po' naturalmente l'arancione perché è fatto con il rosso il blu meraviglia cosa manca? il nero manca ops mi è caduta una goccia d'acqua vabbè bellissimi non trovate? e adesso dobbiamo vedere anche il bianco quindi per il bianco devo prendere una carta scura il bianco ora ditemi se non è fantastica questa gouache insomma fatta in casa grande soddisfazione questi pochi colori possono diventare un'infinità un'infinità di colori basta unire le varie tinte per creare tantissimi nuovi colori dal nulla viola, turchese, li avete tutti in palette basta mescerli bene mi raccomando prendete un rosso che non sono tutti solubili in acqua solubile, ben solubile in acqua perché se no la gouache non essendo oleosa non riesce a dissolvere tutti i granelli e vi rimane appunto con questa micro granulosità che a me dà fastidio ma potrebbe essere anche bella a ben vedere a me non piace perché io lo sapete sono un pochettino pignoletta però devo dire bei colori non trovate belli brillanti e vividi per una gouache homemade visto non è poi affatto difficile preparare una buona e bella gouache i colori a gouache sono dei colori meravigliosi me li avete visti usare in tanti video precedenti casomai vi metto il link qui sotto e vi metto qui sotto anche il link della preparazione della gomma arabica che è una cosa veramente semplice e allora che ne pensate? la proverete? io vi posso assicurare che questa gouache è una gouache di ultima qualità qualora dovesse leggermente essiccarsi o l'allungate con un pochettino di base pronta che vi sarà rimasta che durerà a lungo se avrete messo il conservante oppure l'allungate semplicemente con un pochettino d'acqua la fate rinvenire sono colori in odore che si puliscono facilmente con una semplice pezzetta dell'acqua dei colori versatilissimi ma brillanti e di grande performance provateli e poi mi direte noi li useremo molto presto in un prossimo video per quanto concerne i bianchi quale usare? bianco di medon, bianco di spagna, bianco di... allora qualunque carbonato di calcio naturalmente quello migliore in assoluto è il bianco di medon o bianco di spagna subito seguito magari dal bianco di Parigi che io ho anche utilizzato per fare qualcuno dei colori che avete visto il colore che vi darà più filo da torcere nella stesura sarà sicuramente il bianco di titanio che è appunto la colorazione per il bianco perché ha una granulometria più cristallina che ci sta leggermente di più ad essere assorbita dalla pasta base ma niente paura basta lavorare un po' più a lungo e il colore verrà bellissimo come l'avete visto in palette bene, non mi rimane che salutarvi e chiedervi un pollice in su se ritenete utile e bello questo video e noi ci vediamo sicuramente a un prossimo video creativo da Ombretta e da Arte per te è tutto alla prossima volta ciao 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 ciao